Calenda, noi tra pace e condizionatori abbiamo scelto la pace, quindi andiamo così. Siamo in grado di fare il grande annuncio oppure no? Fumata bianca finalmente, il terzo polo è nato? Il terzo polo c'è da tanto tempo, la vera domanda è se riusciremo a rappresentarlo in modo serio. Per rappresentarlo in modo serio io spero che ci sia la compagine più ampia possibile, è chiaro che abbiamo tempo da qui a venerdì, quindi tra domani e venerdì... No, e il punto centrale secondo me è, visto il teatrino di queste settimane, non benissimo diciamo la verità, è un teatrino secondo me molto deludente, io sono orgoglioso di esserne stato fuori, se dobbiamo fare un accordo e secondo me è una cosa ovviamente positiva, bisogna farlo in modo molto serio e diverso da tutti gli altri, quindi ancora al momento non siamo d'accordo. Che cosa manca per arrivare al accordo? Io la vedo così, quali sono le ragioni profonde di un eventuale accordo? Secondo me con l'inflazione tra l'8 e il 9%, con una situazione di guerra, io faccio complimenti alla stampa perché in molti casi la coprite, per carità come anche i vostri colleghi, ma decisamente meglio in alcuni momenti, penso a ciò che sta succedendo in Ucraina, penso a ciò che sta succedendo a Taiwan, penso a ciò che sta succedendo nella striscia di Gaza, penso all'aumento dell'estremismo islamico in Africa, di fronte a questo scenario, la prossima legislatura, più che una legislatura di amori e odi come quella che il gioco delle coppie, degli accordi di oggi ha mostrato, deve essere la legislatura delle persone competenti. Allora, questo terzo polo per me ha un senso se mette la sua cifra sull'elemento della competenza, della professionalità, della capacità, di una classe politica che rifiuta le facili banalizzazioni, perché sia una classe politica seria bisogna fare un accordo serio. Dall'altro lato c'è una destra, la Meloni, che è la leader di uno schieramento di fatto sovranista, io non la definisco fascista, io la definisco però una che... Ci arriviamo però, ci arriviamo alla Meloni. Da una parte c'è la destra, da una parte c'è la sinistra, i 5 Stelle fanno la loro parte, chi sono gli unici che possono dire di non aver mai messo i bastoni tra le ruote a Draghi, anzi di averlo voluto e poi sostenuto. Il terzo polo. Ok, però ripeto la domanda, perché ancora non c'è l'accordo? Perché se si fa l'accordo bisogna capire, ora, fino al 26 settembre sicuramente, ma anche a dopo, qual è la prospettiva. E allora su questo, se c'è un ragionamento, le candidature e le liste sono la cosa più facile. La vera domanda è, vogliamo fare un percorso che da qui a qualche mese, anche dopo le elezioni, costruisca un grande polo del buonsenso, che sia in grado di incidere nella prossima legislatura? Per farlo bisogna fare le cose per bene. Se riusciamo a fare questo, facciamo un servizio al Paese. E se non ce la facciamo, abbiamo perso un'opportunità. Le faccio la stessa domanda che ho fatto ieri a Calenda, che percentualità del raggiungimento dell'accordo? Siamo a buon punto, voglio dire. Io sono sempre ottimista e sempre prudente, quindi non faccio percentuali. Non fa percentuali, però insomma siamo vicini alla fine, anche ieri Calenda ce l'ha lasciato capire. Io penso che noi domani dobbiamo vederci con Carlo, domani ci vediamo e decidiamo se sì o no. La leadership è un problema? Chi comanda? Lui? Lei? L'altra? Perché adesso l'ipotesi è un ticket. No, va bene. Sembra beautiful. È vero che fino ad oggi molti hanno fatto uno spettacolo stile beautiful. Io penso che la leadership sia il tema finale di questo percorso. Sicuro che non è invece quello iniziale. Quando ci sono due... No, perché siete due personalità, un pochino ingombranti diciamo. Uno o tutte e due devono fare un passo indietro. Ecco. Siamo d'accordo perché ci deve essere una Calenda ieri. Allora io su questo non ho alcun problema, ma prima voglio che si concluda tutto il percorso, si decida che cosa facciamo, si decida qual è lo scenario. A valle dello scenario lei dice io faccio anch'io il passo indietro. Sono pronto a fare. Uno dei due, o come dice lei, tutte e due devono fare un passo indietro, ma per me nomina sunt conseguenziarerum. Ma l'ipotesi del ticket è latino e dice che i nomi sono la conseguenza dell'erum. La sua ossessione, Toninetti. No, infatti non so cosa fare senza arrivare in Parlamento. Mi mancherà. Danilo mi mancherai. Ma l'ipotesi del ticket femminile, Carfagna, Bonetti, circolato ieri sera? Nomina sunt conseguenziarerum. Prima mettiamoci d'accordo sul resto e poi vediamo. Io trovo tutto affascinante. Abbiamo una classe dirigente tranquillamente in grado di fare qualsiasi ruolo. Ci sono tante persone che hanno svolto il ruolo di ministro in questa potenziale compagine, perché ce ne sono tante. Sicuramente in questo governo Carfagna e Bonetti hanno lavorato bene, come pure Gelmini, come pure... Non so se mi sto dimenticando altri nomi, no. Mi pare che all'interno dello schieramento tra noi e azione, mi pare che questi siamo i ministri uscenti. Ce ne sono altri ovviamente che l'hanno fatto in passato. Però capisco che per come ci hanno abituato i dirigenti politici di oggi sembra tutto un problema di quote e di nomi. Non è così. Con me non è così. Cioè io sono uno di quelli che, pur avendo anche una certa ambizione mai nascosta, mettiamola in questo modo con un eufemismo, e pur avendo in alcuni passaggi anche giocato la carta macchiavellica dell'accordo di potere, ho però una caratteristica che penso mi venga riconosciuta anche dagli avversari, che prima di me viene il progetto politico. Forse sono persino ossessionato dalla politica. Quando sei mesi fa, o qualcosa di più, mi hanno detto, vieni a fare il presidente del senato, in cambio però voti la presidente Casellati al Quirinale, io ho detto no. Ma non perché fare il presidente del senato sia brutto, ma perché fare il presidente del senato, promettendo una persona che tu non richiedi all'altezza, ho scelto Mattarella. Quando non è un mistero, alla fine del conte bis, pur di tenermi buono, mi offrirono incarichi internazionali o ministero, io ho detto no, voglio Draghi. Allora io sono uno di quelli che, non essendo propriamente una mammoletta, e non essendo un'orsolina, dico per me prima viene il progetto politico, poi c'è la generosità delle ambizioni personali. Allora, lei ha detto, mi pare l'altro ieri, se facciamo l'accordo con Calenda, insieme facciamo il botto. Ora però c'è un problema, che i sondaggi, almeno quello che abbiamo letto ieri, e quello che leggiamo in queste ore, accreditano al terzo polo, al piccolo centro, come lo ribattezzerei io, allo stato degli atti, poi vedremo dal 25 settembre, 2%, 4%, non oltre. Guardi, direttore, non è che lei sta illudendo che questa area moderata in realtà non c'è? Lei ammetterà che se c'è un politico in questo scacchiere nazionale, che prima di prendere una decisione, l'ultima cosa che fa, guarda, i sondaggi sono io. Se io avessi guardato i sondaggi, noi saremmo oggi alle elezioni con Conte, presidente del Consiglio, e con Draghi, pensionato a Città della Pieve. Siccome io i sondaggi non li ho mai guardati, quando Conte aveva il 90% del consenso, io ho detto per me Conte deve andare a casa perché per me non è buono. Allora, questo come premessa, un politico segue le idee, non segue i sondaggi. Dopodiché le dico anche, ad onore del vero, che molti sondaggisti definiscono ampio lo spazio di un terzo polo. Ma guardi, per me, quando si parla di sondaggi, c'è il più bravo di tutti su questo che si chiama, la stupirà Silvio Berlusconi. Quando stamattina ho visto Berlusconi, che ha iniziato a attaccare Calenda e Renzi, Renzi e Calenda, Calenda e Renzi, Renzi e Calenda, vi son detto occhio perché questa è veramente la bella soluzione. Perché se Berlusconi ci teme, convinto com'è che noi possiamo portare via un po' di voti ai moderati, e io dico, se il PD ci teme perché si rende conto che c'è un'ala riformista che tra votare l'ex presidente del Consiglio e l'ex segretario del PD e votare Di Maio, perché chi vota PD oggi vota Di Maio, ci pensa, io credo che questa cosa porti ad avere un risultato decisamente superiore ai sondaggi. vediamo, le due cifre di sicuro, appunto se c'è la virgola nel mezzo, quando insegno a uno una volta, le due cifre, io sono sempre contro le virgole, però vediamo che succede e soprattutto il punto fondamentale è che ti puoi preoccupare di sondaggi quando dici cos'è che ti caratterizza. Oggi c'è un parlamentare, credo sia uscente, non so se avrà il terzo giro o no, penso sia rimasto con i 5 stelle, che è un sottosegretario, si chiama Sibilia, è il Carlo Sibilia, che è il sottosegretario forse agli interni direi, o agli esteri, agli interni. Interni, quello che diceva che l'atterraggio sulla luna non c'è mai stato. Lui ha fatto un tweet e ha detto Renzi e Calenda sono i politici più antipatici, fanno un polo insieme auguri. Ora io non lo so se Carlo Sibilia racconta le barzellette meglio di Carlo Calenda o di me ed è più simpatico ed è più amato, non lo so, non so valutare. Ma credo che queste elezioni permetteranno, se ci sarà il terzo polo, di votare un polo di persone competenti, che non crede come Sibilia che gli americani non sono mai andati sulla luna. Perché questo signore che ha fatto il sottosegretario all'interno, anche col governo Draghi a dire il vero, è uno che dice che gli americani il 20 luglio del 69 non sono mai arrivati sulla luna. Allora preferisco essere uno che non sa raccontare le barzellette a uno che crede alle panzane come il sottosegretario Sibilia. Detto questo però Letta dice, e i sondaggi, le proiezioni, le simulazioni un pochino lo confermano, il terzo polo farà vincere la destra. Lei nega che sia così? Perché lo nega? Io sono molto dispiaciuto perché tutte le volte che discuto con una posizione di forme da quella di Enrico Letta c'è sempre il pensiero che va a qualche rancore personale. Stai sereno. È evidente, considerata la modalità con cui Letta ha gestito questa dinamica, che a lui quella storia lì ancora non è passata perché dire di fare il fronte Draghi, mettere un veto su Italia Viva e accogliere Fratoianni, che ha votato 55 volte la sfiducia Draghi, leggermente contraddittorio è stato. Però io vorrei seguire il ragionamento di Letta. Letta aveva tre alternative. La prima alternativa era, in nome dell'alleanza contro le destre, quando dice la destra più pericolosa d'Europa, lui doveva fare un grande accordo, chiamiamolo costituzionale, democratico, repubblicano. Il CLN. Il CLN. Io non credo che questa, ragioniamo, sto facendo l'editorialista politico per la stampa, poi il direttore spero vi metta in prima, ma se mi mette dentro. Il concetto è Letta, poteva fare ipotesi A. Grande accordo. E lì, spiace dirlo, io sarei stato contrario, ma doveva fare un accordo con Conte. Perché i Cinque Stelle, piacciono o no, al Sud hanno ancora una sacca di consenso importante. Quindi se lui vuole strappare di consenso, se lui dice io voglio bloccare la Meloni perché la Meloni è il pericolo, oh, Letta è amico della Meloni a vent'anni, ci va alle iniziative, a Vedrò, a Treiu, questa idea che la dipinga adesso come il mostro è un po' difficile. Ma ammettiamo che sia così. Allora tu vuoi fare il comitato di direzione. Devi prenderti anche i Cinque Stelle. E io lo dico con il Malox. Seconda ipotesi, Letta dice, no, io voglio fare l'agenda Draghi. Perché Draghi è caduto mentre andava bene. Allora prendo Calenda, Renzi, i riformisti, quella parte di PD che ha votato sempre per Draghi e in nome di Draghi faccio lo schieramento di quelli coerenti per Draghi. Invece Letta ha preso e ha messo il vetro su di noi e ha portato tra due anni. La terza ipotesi era Letta, faceva Bertroni. Vocazione e maggiorità. E diceva ragazzi io mi faccio il mio partito, mi porto dentro Speranza, si poteva portare dentro qualche società civile, quello che voleva, e andava a combattere dicendo voglio fare il primo partito. Cosa ha fatto Letta? Ha fatto una frittata. La frittata qual è? Ci ha messo dentro Di Maio. E Di Maio che c'è zecca con il PD. Quando io vedo Di Maio entrare nel Nazareno, scusi mi lasci dire per una volta, mi vengono i brividi a ricordarlo. Io ero il segretario del PD quando lui diceva che i dirigenti del PD avevano le mani, lui e Beppe Grillo, sporche di petrolio e di soldi. Va bene, c'era anche il partito di Bibiana. Poi ero il senatore del PD, mi alzai in Parlamento e mi sa, ma come fai a dire che il PD ha rubato i bambini con l'electroshock e poi vai a candidarti col PD? Ci vuole, è il premio. Ma la coerenza nella politica non si può più. Io penso gli elettori abbiano rinunciato. Ho capito. Perché non c'è uno che dice alla stessa cosa che diceva un anno fa. Questo vi riguarda più. No, no, però c'è modo e modo, mi perdono. C'è modo e modo. Una cosa è rinunciare alla coerenza, una cosa è rinunciare alla dignità. Tu puoi decidere come ho fatto io per bloccare Salvini di fare un governo con i 5 Stelle. C'ho ancora in mal di pancia. Ho fatto partire un governo con i 5 Stelle solo per bloccare Salvini. Ancora delle volte mi viene gli urti di mal di pancia. Però mi scusi, mi scusi. Una cosa è dire che il PD ruba i bambini con l'electroshock a Bibiano e poi il PD che lo candida. Perché qui non è una prima ricorenza, è di mancanza di dignità. E' chiaro. Questo è un libro. Va bene, però. Quindi penso che il Letta abbia sbagliato. Noi non facciamo vincere la destra. Ecco, vorremmo tornare a questo. In un mondo normale. Al di là degli errori di Letta. Adesso voi fate vincere la destra. In un mondo normale Letta avrebbe avuto tutto l'interesse a allearsi con i grillini e a far nascere un centro capace di portarvi a voti a Forza Italia. Perché sui collegi questo li avrebbe resi anche più contendibili. Invece Letta con questa strategia non si rende conto che non solo non combatte la Meloni, ma ci dà a noi la possibilità di combattere la Meloni. Perché se tu apri la campagna elettorale e dici aumento le tasse di successione patrimoniale, solo per i ricchi, tutto quello che vuoi, ma la tua parola d'ordine è, io innalzo la pressione fiscale, è evidente che non stai combattendo la destra, ma le stai facendo un regalo. Scusi, questo è un passaggio chiarissimo. Però il Cattaneo, l'Istituto Cattaneo, ha fatto una simulazione ieri, l'abbiamo pubblicata oggi su tutti i giornali, dopo la nascita, ancora non formale, ma nei fatti, ipotizzando che già ci sia, nel terzo polo, in una situazione nella quale il centrodestra era già largamente in vantaggio, anche sui collegi uninominali, dice il Cattaneo, me lo sono insegnato, eccolo qua, con il terzo polo al Senato il centrodestra prende sei collegi in più di quelli che già prendeva prima e alla Camera ne prende addirittura venti. Questa è la prova provata che fa iniziare la destra. Però ragazzi mettiamoci d'accordo. Non lo so, questo è il Cattaneo. No, no, ma lo dico perché il Cattaneo e i sondaggisti, delle due l'una, o non contiamo niente, come dicono i sondaggi che dicono che il terzo polo è... Ma non contate per vincere. Aspetti, aspetti, utilizzo le parole del direttore della stampa. Sì. Mettetevi d'accordo, perché o siamo un centrino, il centrino è come dire non siete il grande centro, siete rubetta, con tutto naturalmente il rispetto, oppure siamo decisivi. Io penso più che siamo decisivi, ma penso anche che una parte di quei voti, se li prendiamo davvero, riusciamo a fare l'unica grande operazione necessaria a questo Paese, che è quella di riportare Mario Draghi. Perché? Perché se tu fai un bel risultato nel proporzionale, poi c'è spazio anche in qualche collegio ordinale, però è difficile, sul proporzionale la partita è quella, se fai un bel risultato sul proporzionale, mamma mia, ti si apre la strada per poter dire in Parlamento, e in Parlamento ci sappiamo stare, troviamo le condizioni per far nascere un governo di unità nazionale o un governo Draghi, anziché un governo Meloni destra-destra. Chi è che sta aiutando la destra-destra? Letta. Perché a forza di dire aumento le tasse, sono tutti i voti che dà Berlusconi. Io penso che Berlusconi e Letta siamo più amici, perché Berlusconi adesso ami più Elicolaccio di Gianni Letta. Gliela faccio una domanda su Berlusconi, però insisto ancora su questo, perché mi pare di capire su questo. Anche sono geloso che ormai ci parla più lei di me con Berlusconi, quindi capito che sono... Anche se a me disse la frase, secondo me, non è perché l'abbia detta a me, però capitò che la disse a me nel suo ultimo compleanno, quando gli chiesi, allora qui si va verso una vittoria di Meloni e Salvini, e lui disse, ma lasciamo stare, ma non scherziamo. E la cosa più bella è che poi la sventica. Quello l'avevo messo nel conto. Vabbè, comunque, per dire che ormai in politica... No, comunque, Berlusconi, sono molto geloso perché Berlusconi parla con Giannini e non con me, va bene. Vabbè, tra l'altro appunto, lei è stato considerato a lungo il principale erede di Berlusconi, no? Quando Giuliano Ferrara scrisse... Il Royal Baby. Il Royal Baby, esatto. Preciso erede politico. Esatto, erede politico. Sì, sicuramente un'eredità importante, ma anche l'altra è... No, però... Lunga vita umana... Vabbè, allora vi faccio prima la domanda su Berlusconi, che appunto lei dice, ha cominciato ad attaccarci tutti i giorni, Berlusconi ripete, se Renzi voleva fare il grande centro doveva venire con noi. Questa è la verità. Se Berlusconi voleva fare il grande centro non doveva far cadere Draghi. La verità è che Berlusconi, che è il più avanti di tutti sulla lettura dei dati, capisce che il terzo polo, se si farà come io auspico, è una roba che porta via i voti a lui e al PD. E che portando via questi voti diventa decisivo in Parlamento per gli assetti istituzionali del futuro. Allora mi riallaccio a quello che le stavo per chiedere. Quindi se Berlusconi voleva fare un'operazione vera, non doveva sostenere chi come la Meloni ha sempre votato contro Draghi, devo dire con coerenza, e chi come Salvini con un po' meno coerenza l'ha mandato a casa. Ecco, approfittando dei Cinque Stelle. Certo, sintetizzando la vostra strategia, mi rifaccio anche a quello che diceva ieri, Calenda seduto nel posto dove è ora seduto lei. Quindi il vostro schema è questo, anche se i sondaggi li danno in netto vantaggio. Arrivare ad una sorta di non vittoria della destra, giusto? Tipo Bersani nel 2013. Per far sì che dopo, appunto, si possano ricreare le condizioni per fare un altro governo con la maggioranza Ursula, mandando la Meloni all'opposizione e Draghi Premier. Questo è lo schema? Diciamo che è uno schema dove lei si allarga molto, anche perché ha visto che la destra ha fatto un accordo di stare comunque insieme. Però nel breve periodo, nel breve periodo, il mio sogno è avere Draghi, perché ritengo Draghi meglio della Meloni. Poi ci sono due altri obiettivi, uno di medio e uno di lungo. Di medio periodo il tema che secondo me si porrà nella prossima legislatura è quello che con 400 deputati e 200 senatori e una componente comunque a rischio ballerina, dobbiamo essere in condizioni, mentre si lavora alle auspicabili riforme costituzionali, sempre lì si torna, di mettere in sicurezza il Paese qualora ve ne sia bisogno. Cioè io dico a uno che ci sta seguendo da casa. Preferite avere in Parlamento gente che crede che gli americani non sono mai andati sulla luna o gente che se c'è un problema di inflazione, di conflitto internazionale, di crisi europea, di problemi sul patto di stabilità, sa dove mettere le mani. Ed è qui che si gioca la credibilità del terzo polo. Poi c'è un obiettivo di lungo periodo, che vuol dire per me lungo, ora non esageriamo, però insomma anche perché nel lungo periodo keynesianamente saremo tutti morti. Il punto è, l'obiettivo è quello di arrivare al 2024 con la formazione sempre più significativa di una sorta di grande casa, diciamo liberal-democratica europea, che sia in condizione di giocare un ruolo alle europee dopo. Perché lei sa che da qui a un anno e mezzo ci saranno elezioni europee e noi abbiamo, ad esempio con Carlo Calenda, una condivisione di quella esperienza che si chiama Rissino Europeo. Senta, ma visto che candidate Draghi anche per il dopo, Calenda dice che non ci parla, lei con Draghi ci parla. L'avete consultato? Perché a me risulta che lui non ne voglia sapere. E infatti non riesce neanche essere tirato dalla giacchetta. Non mi pare che Draghi si sia candidato nemmeno la volta scorsa. No, l'ha messo in campo lei. L'ha chiamato il presidente Mattarella. Lei ha mai sentito un mio racconto di una conversazione con Mario Draghi? È mai uscito fuori che in questo anno e mezzo io ho visto Mario Draghi? No, però lei fa il kingmaker di Draghi. Dice, so io che ho mandato a Casa Conte e ci abbiamo messo in campo. Questo diciamo, che io l'ho mandato a Casa Conte e lo condivide chiunque. Penso che anche chi allora non era d'accordo, oggi sembra che non mi piace partecipare alle feste, mi piace farle fallire. Però il mio problema è che, l'ho mandato una volta il fotopontaggio a Paolo Sorrentino via WhatsApp di quella immagine, però il concetto di fondo è, Draghi è un grande bene di questo paese perché dà credibilità. E io penso, bisogna essere molto onesti, non ci aspetta un periodo facile. Lei ha in larga parte della sua esperienza di direttore e gestito anche quotidiani settimanali economici, penso affari e finanze soprattutto. E lei sa che quando l'inflazione cresce in quel modo... Non c'è dubbio, è un problema vero. È un problema vero, è un problema difficile. Cioè l'inflazione, fino a che c'è un'inflazione 3-4%, inflazione è vero che oggi ho visto le stime americane, è leggermente diminuita, o meglio, si è leggermente abbassata la crescita. Però tu hai una situazione dove non è più un problema dell'Argentina o nello scacchiere europeo o simile europeo della Turchia, che ha un'inflazione incredibile e che porta Erdogan a cercare una legittimazione internazionale. C'è un problema che quando fai 8-9% in Italia su base annuale, chi ci sta seguendo e guadagna 1.200 euro al mese vuol dire che va sotto la soglia di povertà? Chi guadagnava 1.600 euro? Quindi lei dice che c'è bisogno di draghi. C'è ancora bisogno di draghi. Io dico che c'è bisogno di una classe politica all'altezza. Se poi dovessi immaginare che in questi tre mesi, tra settembre e dicembre, e anche qui mi appello alla sua esperienza economica, si deve riformare il patto di stabilità? Perché le regole del patto di stabilità europeo si devono ridiscutere tra settembre e dicembre. Io ho visto un mese fa Mark Rutte, ed è sempre il solito Mark Rutte, premier olandese, che mi ricordo io. Di fronte a quindi tosti, ho visto la proposta dei tedeschi, meno male che ci sono socialdemocratici che sono un po' più aperti rispetto alla CDU e ai bavaresi. Ma il dramma che c'è è che se noi non cambiamo la politica del patto di stabilità, si va da poche parti. Allora, domanda a un italiano, chi preferite che vada al tavolo europeo a discutere del patto di stabilità? Giorgia Meloni o Mario Draghi? Ecco, ma con Draghi, ripeto, ci avete parlato? Ma lei, le ripeto la domanda, ma mai sentite una volta che io ho detto che ho parlato con Draghi? Mai. Quando qualcuno, come può essere, il giorno della chiusura, prende e va a Palazzo Chigi a farsi vedere per parlare con Draghi, nessuno di noi aveva mai fatto... Perché, capito, c'è anche una serietà nei rapporti con Draghi. Però, serietà per serietà, cosa vedo io? Molte forze politiche, molti leader politici, adesso voi del terzo polo, che, diciamo, usate Draghi un po' come la coperta di Linus, per così dire. No, non me lo dico. Cioè, il partito di Draghi senza Draghi, oppure l'agenda Draghi. Che cos'è l'agenda Draghi? L'agenda Draghi non esiste. Allora. No? Cartolerie o no? Ma insomma, non c'è l'agenda Draghi. Quindi che vuol dire evocare Draghi così? Aspetti un secondo, non lo dica a me che io uso Draghi, perché... No, io faccio un discorso generale, però, come lei dice Draghi dopo... Io ho lavorato per il governo Draghi, sentendomi dire da tanti, anche sul suo giornale, che io avrei fatto questa operazione semplicemente perché, in qualche modo, tentato dall'idea di fare un accordo sulle poltrone. Tutti sanno che, dal passaggio tra il Conte Bis e il Draghi, io ci ho perso un ministro. Una ministra, più correttamente. Quindi sono l'unico al mondo che fa un'operazione per perdere le poltrone, non per guadagnarle. In un mondo nel quale il teatrino è sulle percentuali dei collegi, io sono quello che perde un posto. Primo punto. Cos'è l'agenda Draghi? Andiamo sul merito. Europa. Io sono per la globalizzazione e per l'Europa. La Meloni è per il sovranismo e sta alleata da Orban a Vox. Cioè, da realtà, a mio giudizio, anti-europee. Secondo punto. Lavoro. L'agenda Draghi è che si incentiva la creazione di posti di lavoro e si elimina la cultura del sussidio. Poi, che questo voglia dire, come dico io, abolire il reddito di cittadinanza, come dicono altri, modificarlo. È la filosofia del sussidio che non funziona. Tre, sull'ambiente. Quando mi sento dire che non si può fare il termogalorizzatore a Roma e vedo questa città che diventa uno zoo, lo dico con la mano in bocca, una città piena di festival di cinghiali, praticamente in modo costante, quando vedo queste robe mi prende male perché mi sembra un atto contro la bellezza e Roma è la città della bellezza. Ho capito, quindi Draghi è tutto questo. Draghi, vado avanti. Draghi in termini di innovazione è l'uomo che più di ogni altro ci ha insegnato avere uno sguardo globale, anziché stare a pensare a muri e confini. In termini di immigrazione, l'immigrazione che cos'è? Soltanto uno spauracchio da gestire in campagna elettorale? Ma lei non pensa però che, fermo restando che tutto quello che lei dice ha un reale fondamento e lo condivido in buona misura, ma rievocare Draghi, ricorrere ancora una volta a Draghi, non sarebbe l'ennesima sconfitta della politica? Che deve ancora una volta inginocchiarsi alla miglior risorsa tecnica che è la migliore oggettivamente. Allora, voglio essere molto secco su questo punto. Ritengo l'arrivo di Draghi non la debacle della politica come lei ha scritto in tre o quattro editoriali, per me è il trionfo della politica. Perché quando abbiamo portato Draghi abbiamo rischiato l'osso del collo su una scelta politica con la P maiuscola. Mi rendo conto che molti osservatori non la pensano come me, lei per primo, vi rispetto. No, ma io considero Draghi la migliore risorsa che abbiamo. Ma non c'è dubbio, ma quella operazione, l'operazione del febbraio 21, mandare a casa Conte portare Draghi non fu il fallimento della politica, per me è stata l'operazione più politica che ho fatto. Ragioniamo di adesso, qui c'è un problema di fondo, noi dobbiamo scegliere se cambiamo il sistema elettorale e istituzionale o no per sempre. Sì, ma non abbiamo un deficit di leadership proprio politica in questo momento? Probabilmente sì, però le posso dire, vogliamo guardare nel mondo? Sì, è una fase difficile perché lei vede quello che sta succedendo, non so se fino a qualche ora fa apriva su Trump il suo sito. Voglio dire, qui abbiamo una situazione dove c'è in America un presidente, un amico che si chiama Joe Biden, che ha ottenuto anche dei risultati normativi importanti, ma non mi pare che stia brillando in questo momento a livello internazionale. Hai Donald Trump che è nelle situazioni che conosciamo. Queste due leadership sono le due leadership che si sono confrontate e che secondo alcuni si confrontano. vado avanti, Regno Unito, Boris Johnson stravince le elezioni con dei risultati che erano paragonabili, secondo me forse una Thatcher, ma non mi ricordo chi ha vinto così bene come Johnson, ed è fuori ancora, non formalmente. Non c'è dubbio, il panorama internazionale è quello che... Il povero Scholz non brilla. Dopodiché io che sono stato uno che ha lavorato con la Merkel, lei ci è stata a 16 anni quindi ha lavorato con chiunque in Italia, però nei tre anni in cui ci sono stato io ho lavorato a lungo con Merkel, se lei dice il nome Merkel oggi anche in America, non solo in Germania, non riceve un grande entusiasmo, eppure sette anni fa la ricorda la copertina di Time, donna dell'anno. Cosa voglio dire? Nelle democrazie, sto dicendo una cosa molto brutta, nelle democrazie la leadership non è mai stata complicata come in questa fase. Abbiamo più followers che leader, abbiamo gente che sta dalla mattina alla sera a guardare se su Instagram il post di Renzi che dà il 5 a Giannini va bene oppure... Mi perdoni, io sono uno di quelli, è stato uno dei primi che ha utilizzato, forse per una cosa un po' diversa, per disintermediare, non per farmi dettare la linea, anzi io in alcuni casi ho pensato senza troppa umiltà, ma non la stupirà con una leggera dose di arroganza, di poter guidare anche i social. Quando io su Twitter immaginavo di poter portare la mia comunità, il mio popolo dove volessi, sbagliavo. Ma non sono mai stato follower dei miei followers, anzi forse ho fatto l'errore opposto, che sono stato un po' arrogante rispetto all'opinione pubblica. Però quello che voglio dire è, c'è un tema di leadership, sì, però c'era anche un fatto che Mario Draghi, con tutto il rispetto che si deve alla sua cultura tecnica, è anche uno che quando faceva il direttore generale al Ministero del Tesoro, stiamo parlando del tempo in cui c'era, Carlo Azzeglio Ciampi, primi anni 90 e anche fine anni 90, perché poi ho lasciato più o meno quando andò a Goldman, era uno di quelli che veniva da una grande esperienza politica. Dopodiché, che sia Draghi o sia un altro, io vorrei che il terzo polo in Parlamento fosse decisivo. Magari non lo sarà subito numericamente, ma se siamo bravi, e siamo bravi, riusciremo piano piano a spostare e a modificare la politica in attesa della riforma. Allora, Alessandra Ghisleri dice che ci sono il 40% degli italiani ancora indecisi. Voi a chi parlerete di qui al 25 settembre? Qual è il bacino? Cioè, picchierete col PD contro il PD? No, sinceramente no. Perché un po' la sensazione è un po' quella, che il PD è il principale vostro avversario. Come fate a pescare? Nel mio caso no, il PD è il principale mio rimpianto. Perché lo dico con l'amaro in bocca, a vedere di Paio. Lo credo, lei aveva il 40%. Ma guardi, quel 40% non è oggetto di rimpianto per me. Perché l'ho speso tutto bene, quel 40%. L'ho speso per fare i diritti civili, l'ho speso per fare il Jobs Act. Gianni, nessuno ha fatto il 40% in 60 anni. Appunto! Se l'abbiamo fatto, si faccia una domanda sul perché del giorno dopo... Deve fare più lei che io. No, mi scusi, io avevo un'alternativa. Lei lo ricorderà perché... No, però adesso sarebbe bello fare... Io stavo dicendo perché il PD è il rimpianto e parlavo di Di Maio. Però siccome lei da Di Maio è passata alle cose serie, cioè il 40%, in 30 secondi mi farà dire che quel 40% risultato storico è stato speso per riforme vere. Il punto centrale è che dal giorno dopo la sinistra del PD ha fatto di tutto per farmi fuori. Alla fine riuscendovi. Poi le potrà dare a colpa me di quello che si vuole. Molto da dire. Ma quel 40% io potevo andare alle elezioni e vincere le politiche. E non l'ho fatto perché ho pensato che avesse un dovere verso il paese che era una situazione economica difficile. Non è questo il mio rimpianto. Il mio rimpianto non è il mio 40% che rimane tatuato qui quando mi dicono ha preso poco Renzi. Prendano il 40% e poi vengano a parlare con me. Ma il punto fondamentale è un altro. Il punto fondamentale è il mio rimpianto è vedere il PD che segue Di Maio. Perché vede, se il PD dovesse essere il partito serio di sinistra europea, ma ce lo ricordiamo Di Maio e gli scafisti del mare? No perché voglio dire, i taxi del mare. Non mi ricordo se la disse ancora, mi sembra che la disse addirittura alla stampa quella frase. I taxi del mare. Cioè questo è l'esatto opposto di quello che io rappresento. Detto questo, a chi andiamo a prendere i voti? La Ghisleri scrive nel suo articolo, e mi colpisce, che il popolo di indecisi è incerto tra Meloni, Renzi, Calenda. Esatto. Che se ci pensa è un po' strano. Sono le cose, beh il nuovismo lo chiama lei. Bene. Il nuovo di questa fase. Allora io credo che il terzo polo possa fisicamente rappresentare il nuovo. Forse io un po' meno, perché sono l'unico di questi tre che ha fatto il Presidente del Consiglio. Calenda è stato Ministro. Meloni è stato Ministro, anche se fa finta di nasconderlo. Senta, abbiamo poco tempo, anzi, non ci siamo già errati. Però le voglio chiedere. Siamo da 33 minuti al massimo. Rapidamente. Meloni è un pericolo. Se vince la destra, la democrazia italiana è un pericolo? No. No? No. Lei non crede? No. Non teme la riforma della Costituzione, se prendono anche i due terzi lo teme? Allora, se vince la destra è in pericolo il vostro portafoglio, non la vostra Costituzione. Perché hanno fatto tante di quelle promesse. Prometto una flat tax, che è ottima per chi ha un portafoglio pingue. Guardi, io sono felicissimo se devo guardare al mio portafoglio. Ma se devo guardare al portafoglio dei poveri cristiani da un lato, ma anche al portafoglio di tutti noi, che si chiama debito pubblico, la considero una follia. Allora, primo punto. La Meloni è un pericolo per la democrazia italiana? No. La Meloni, Salvini e Berlusconi sono un pericolo per le casse dello Stato. E quindi questo è il punto sul quale vorrei fare la campagna elettorale. Uno. Mi diceva la riforma della Costituzione. La riforma della Costituzione va fatta. Quale riforma? La necessità dell'elezione diretta c'è. Poi io penso che anziché l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che in questo sistema di potere creerebbe uno squilibrio, perché il Presidente della Repubblica ha la funzione di garanzia, io farei l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Io cambierei la Costituzione per dire che... Ma era un'idea del Polo delle Libertà, un po' di anni fa. E Sartori diceva, è una follia, perché l'unico paese che ce l'ha è Israele ed è sta fallimento. Benissimo. Se lo ricorda? Io penso che, ricordo molto bene le frasi di Giovanni Sartori, già allora mi attaccavo... Maestro di tutti noi. Maestro di tutti noi. Maestro di tutti noi, fin da quando lo beccavo a mangiare la bistecca da latini, me ne diceva di tutti i colori. Quindi come dire, ho un grande rispetto per la memoria di Sartori, posso permettermi di dire che non sono d'accordo. Perché? Perché nel tempo di Instagram, dei social, l'elezione diretta del Capo del Governo, a mio sommesso avviso, è una necessità. Poi, che sia fatto attraverso strumenti di compensazione con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che diventa Capo del Governo, o, come io auspico, il Presidente della Repubblica che ritiene arbitro, e il cambio delle funzioni del Presidente del Consiglio, per avere un Presidente del Consiglio, che scelgono cittadini che durano 5 anni, poco importa. C'è una sola cosa che mi sentirei di chiedere oggi a Meloni, Salvini, Berlusconi, ma anche a Letta, Conte e al Terzo Polo. Prendete, prendiamo tutti un impegno perché la riforma costituzionale si faccia e si faccia possibilmente insieme. Perché l'elemento chiave del fallimento della mia riforma costituzionale è stata che, per colpa mia, per colpa di Berlusconi, per colpa di chi vuole, prendiamo tutta la colpa io, ero quello che guidava, quindi mi prendo la colpa io, quella che era una riforma condivisa, al punto che il patto del Nazareno era un patto tra avversari, è diventata, con il passare dei mesi, la riforma di solo uno. Allora, siccome la riforma costituzionale serve, senza riforma costituzionale il Paese va più piano, l'idea che si debba fare tutti insieme supera il problema del 66%. Abbiamo avuto un problema in questi 30 anni, diciamo dal 92 in poi, è che ognuno ha provato a fare la sua. Per lo più contro quelli che venivano dopo. Non sempre. La legge elettorale, il Rosatello. Più la legge... Fermo però. No, 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 fermo. Non è... No, no, scusi, Gianni, lei se lo ricorda. Se no andiamo a finire. No, facciamo due ore al massimo. No, possiamo farne anche 18 per la base. Il Rosatello non è la mia legge elettorale. Perché anche qui, raccontiamo la verità dei fatti. La legge 165-185 del 2017 nasce per il mio fallimento, non come mia conquista. Io avevo un'altra legge elettorale, che era l'italicum. La mia legge elettorale vedeva il ballottaggio. C'era Giannini contro Renzi. Vince Giannini. Io per cinque anni me ne sto per i fatti miei all'opposizione. Quando perdo il referendum, e poi c'è la consulta, e poi c'è tutto l'effetto del fatto che io avevo fatto la legge, forse in modo un po' sbrigativo, pensando ci fosse una sola camera. Perché ballottaggio lo puoi fare se c'è una camera sola. Mi ricordo. Se c'hai due camere, che fai? Tu ballottaggio a ballottaggio a ballottaggio. No, mi scusi. La legge Rosatello, che è una legge che è un proporzionale con il terzo di collegi, è una legge che tutti i partiti di allora, con l'eccezione dei 5 Stelle e mi pare della Meloni di allora, fecero perché fu l'accordo per stare tutti insieme e si chiama Rosatello, ma c'era dentro la Lega, Forza Italia, il PD, la sinistra e il PD, perché volevano tutti un pezzettino di una roba lì. Che cavolo, se no ragazzi ci vengono in giro. Allora. La mia legge si chiamava Italicum. E io dissi, con un po' di sprezzo, che era peggio di Rosatello. No, questo dice lei. Che quella legge ce l'avrebbe copiata tutta Europa. Non abbiamo fatto un tempo, noi mi rappresentavamo perché ho perso il referendum. Allora, se vince... Se non avessi perso il referendum, il paese starebbe meglio, siccome l'ho perso. Pace è trasformato in un referendum su Renzi. Giannini era già così. Quando i cittadini decidono, si prende, ci si inchiava e si va avanti. La Meloni è un pericolo per le vostre casse, non per la vostra Costituzione. Secondo lei vince la destra però, o la partita è ancora aperta? Vince il terzo polo, ovviamente. Che vuole che le dica? A parte questo. Vince il terzo polo? Adesso mi sembra troppo. Il terzo polo vince se riesce a fare quello che ho detto fino ad oggi. No, voglio dire, la partita è ancora aperta. La partita è aperta, non nelle modalità che ha raccontato Enrico Letta, perché nonostante che Letta ha fatto di tutto per chiuderla, perché Letta è il miglior amico della Meloni, io sapevo che Letta era amico della Meloni, non pensavo così tanto. Gli ha fatto di tutto per fare... Vede che sempre là torna, sempre al PD torna. E porca miseria, ma scusi Giannini, eravamo in condizione di fare... La campagna elettorale contro il PD. No, io ho fatto la campagna elettorale per dire che la Meloni scassa i soldi, i conti, che Berlusconi non è il centro, che sono per andare a fare la manovra fiscale perché io ho fatto gli 80 euro, loro la frattax sono solo annunciata, quindi ho fatto tutto nel merito per raccontare che destra e sinistra hanno strategie sbagliate. Però esistono, però esistono. Esistono. La sinistra non solo esiste, ma ce ne sono due nel mondo. C'è la sinistra, esiste talmente tanto, che c'è la sinistra di Melanchon. Lei diceva che non esisteva. Non ho mai detto questo. Non riapriamo anche questo. No, Gianni, mi facciamo. Non ho mai detto questo. Ho detto che la mia sinistra non è la sua, perché io sono per Tony Blair, per Barack Obama, per Bill Clinton e per Bitterrand. E poi oggi la sinistra è Melanchon, Jeremy Corby, Bernie Sanders e Ocasio Cortez. Ecco, ci sono due sinistre. Forse non abbiamo la stessa, ma io sono molto orgoglioso del fatto che ci siano non una sinistra massimalista, ma due sinistre. Dopodiché, destra e sinistra non funzionano, l'unica alternativa. Comunque, l'annuncio è domani allora? Se va bene, se sono rose e fioriranno. Non fate così. Ho capito che lei può fare il titolo. No, ma no. Allora, la domanda dell'annuncio è che domani... Semplicità, la politica. Gli italiani chiedono semplicità. Gli italiani, no, questi non sono italiani. I titolisti della stampa le può fare il prezzo. No, ma no, no. Allora, il titolo è domani vedo calenda. Capisco che si aspettava di meglio. Domani vede calenda. Peraltro, come i fatti dimostrano, una cosa in comune ce l'avete. Stiamo venuti da lei? Sì, oltre a questa. Avete fregato Letta, tutti e due. No, se vi una cosa, la verità è che stanno capendo tutti gli italiani che Letta si frega da sola. Va bene. Speriamo di avere Letta qui domani, così risponderà a tutto quello che lei oggi... Domani alle 17 Letta va al massimo. Non so, vediamo se alle 17, vediamo l'orario o l'idea. Il dischio vero lasciamo stare. Va bene, allora, in bocca al lupo per il terzo pollo. se per piacere la prossima volta... Ascendiamo il rischio. Se chiamiamo i condizionatori. No, no, noi siamo sempre per la pace, però insomma, ci mettete anche un po' di condizionatori. Lo dico a nome delle nostre asceme. Matteo Renzi, grazie, grazie, in bocca al lupo. Ci vediamo presto, arrivederci a tutti.